Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe. Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio. Chi è che le ha fatte? Io. Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte. Sei nata per fare questo? È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi. Andiamo a fare le scarpe. Stasera? Sì. Insieme, noi due. Il sogno di Valentina, questa sera, alle 21.20. Grazie a tutti.